Frittelle di zucchine. Allora, è un impasto con farina, uova, zucchine, un pizzichino di lievito di birra, parmigiano, prezzemolo, un po' di sale e pepe e tutto. Dovano essere fritti per qualche minuto? Sì, un paio di minuti. Bella Sicilia, bella Sicilia. Un paio di minuti. Buonasera, immersi tra, immersi in un mare di sapore. Una sera per ricordarci i nostri, queste frittelle le facevano anticamente i nostri nonni, i nostri mammi, i nostri papà. E allora noi siamo ritornati ai tempi di una volta, si può dire, con queste frittelle così. Tanto alla gente piacciono tutti perché è una cosa che attira. Manca qualche secondo? Sì, qualche secondo e sono finiti. Eccola. Già sono finiti, siamo qui. Allora un po' di sale? Un po' di sale, sì, di darci un po' di gusto. E poi viene fatto il po' di gusto. Ok. Allora invitiamo tutti a San Giorgio di Giorgio San Marino. Giù Barea. Per un mare di sapori? Un mare di sapori, sì, grazie. Allora lanciamo l'invito. Invediamo a tutti, veniteci a trovare, noi siamo qui. Siamo quattro giorni qui con voi. Dobbiamo gustare il mare. Il mare e i monti. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie a lei. Grazie. 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 Grazie.